salve amiche e amici oggi apriamo con il kiev post appunto che ci riporta agli attacchi di ieri per quanto riguarda l'attacco massiccio il più grande attacco con missili e droni condotto dalla russia ai danni dell'ucraina con qualcosa come 210 oggetti fra droni missili missi da crociera e missili balistici e anche i personici sono stati presi di mira le infrastrutture energetiche ma sono stati colpiti anche civili e la cosa non si è fermata qui perché anche questa notte sumi è stata colpita e e odessa poche ore fa questa è stata queste sono immagini che arrivano dalla città di sumi dei riporta 11 caduti fra i civili 84 feriti e odessa poche ore fa con 10 caduti ora le immagini non ve le posso mostrare ma ci sono stati anche reporter sul posto come olexei goncarenko che appunto ci riporta poche ore fa pochi minuti fa dice è arrivato questo missile che ha colpito odessa ora avrete sicuramente sentito parlare in queste ore già poche ore dopo aver pubblicato il mio video ieri qualcuno nei commenti scriveva che a quanto pare sono arrivate le autorizzazioni da parte degli stati uniti per poter utilizzare i missili a lungo raggio l'ucraina che può usare finalmente i missili a lungo raggio ma vediamo di cosa si tratta è veramente così allora prima di iniziare come sempre se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace anche a questo video qui sotto trovate tutti i pulsanti per sostenermi in questa iniziativa allora la notizia delle autorizzazioni è vera viene però per motivi diversi diciamo che non è scaturita dal recente attacco di ieri questa notte è oggi pomeriggio questa mattina assumi odessa e tutta l'area occidentale dell'ucraina ma in realtà arriva per motivazioni diverse da parte della casa bianca che vedremo fra poco in sostanza quello che viene detto anche via ufficiale e che le preoccupazioni della casa bianca dello schieramento dei soldati nordcoreani hanno sollevato appunto la questione consentendo agli ucraini di utilizzare i missili da crociera i missili a lungo raggio solo nel territorio di kursk il che insomma è una cosa particolare in quanto limita molto le possibilità ucraine di risposta strategica a questi continui attacchi ora mi collego anche a uno spiacevole che un commento che ho ricevuto nel senso può capitare capisco che per molti tutta questa questione dell'invasione russa dell'ucraina è ancora come devo dire oggetto di interpretazioni beh c'è poco da interpretare la contestazione è nata dal fatto che mostro solo fonti ucraine beh chi mi conosce mi segue da un po sa benissimo che spesso porto proprio le fonti russe su questo canale proprio perché ci servono per incrociare le fonti ora che cosa dovrei dire degli attacchi che ci sono stati in questi due giorni che la russia ha preso di mira obiettivi strategici validi beh come devo dire il discorso sarebbe avrebbe senso se fosse stata l'ucraina ad attaccare la russia per prima ma purtroppo la storia dice che è stata la russia ad attaccare l'ucraina di conseguenza qualsiasi obiettivo in ucraina non è giustificato da parte russia russa se poi la russia attacca infrastrutture energetiche in tutta l'ucraina beh questo è considerato crimine di guerra perché le infrastrutture energetiche consentite sono solo quelle legate alla produzione militare se tu metti al buio un'intera città come sumi questa notte che è stata letteralmente spenta come odessa dove si colpiscono civili kiev dove si colpiscono ospedali pediatrici eccetera eccetera beh questi rientrano perfettamente nella definizione di crimine di guerra possiamo dare retta a quello che dice il cremlino va bene lo faremo anche oggi però più lo faremo ve lo assicuro più c'è come devo dire viene fuori immediatamente quanto loro stessi si coprono di ridicolo questo per esempio questa iconcina mostra un attacco che c'è stato proprio ieri con missili a questa centrale elettrica sul fiume di nipro ed è in centro come vedete non è vicina al fronte può essere collegata a produzioni industriali militari certo ma la stessa diga fornisce elettricità a tutta l'area quindi colpirla come è stata colpita su un ponte cruciale beh questo rientra perfettamente nei crimini di guerra ma non sono io a doverli classificare è il tribunale internazionale allora per quanto riguarda quindi le autorizzazioni e che sono avvenute oggi tra ieri e oggi dalle dichiarazioni proprio di biden si parla dell'autorizzazione proprio all'uso dei missili americani nel territorio di kursk la risposta da parte del cremlino beh è questa a proposito appunto delle dichiarazioni russe prendiamone atto il cremlino afferma che biden sta alimentando le tensioni con la decisione sui missili di kiev che dite ha senso dopo dopo tre giorni di continui attacchi ai civili alle infrastrutture energetiche dell'ucraina una risposta del genere chi è che sta facendo l'escalation chi è che invade gli altri paesi chi è che arruola soldati norcoreani per la sua causa insomma qui siamo andati oltre oltre il ridicolo letteralmente fra l'altro ecco vi mostro giusto un fotogramma sempre per collegarmi ai discorsi no filo russi questa è toresc neanche hiroshima era ridotta così nella seconda guerra mondiale come vi dicevo le decisioni della casa bianca arrivano dal paura che la norcorea del nord arrivi a schierare fino a 100.000 unità nella regione di kursk in supporto alle operazioni russe e non solo nella regione di kursk quindi fondamentalmente con questa decisione la casa bianca autorizza kiev a lanciare missili e tutte le sue risorse per per spegnere questi soldati nord coreani inviati nella regione di kursk beh insomma è una sorta di risposta come devo dire che si può interpretare in tanti modi di sicuro ecco si può parlare di escalation beh certamente però non è che una risposta a una decisione a pessima decisione del camminino ora onestamente qui parlo fuori dalle righe per come quello che sono i miei pensieri a riguardo quasi tre anni fa quando seguivo un po gli spostamenti della flotta russa che attraversava il mediterraneo diretta poi al mar nero avevo intuito quello che sarebbe successo e poi con la invasione su larga scala le cose che ho pensato sono state appunto che tutto questo era sarebbe stato un enorme errore colossale da parte della russia primo perché non esiste storicamente parlando una nazione che ne ha invasa un'altra e in qualche modo poi l'ha fatta franca senza avere enormi ripercussioni senza poi perdere anche la causa fondamentalmente quindi con questa azione sconsiderata e vigliacca la russia si è letteralmente cucinata con le proprie mani ed era assolutamente prevedibile se poi voleva evitare l'escalation avrebbe potuto tranquillamente evitare di arruolare soldati nordcoreani se voleva evitare l'escalation avrebbe tranquillamente potuto evitare di prendere di mira tutta l'ucraina le sue infrastrutture energetiche di lanciare continuamente attacchi su larga scala ovviamente probabilmente scusate al cremlino non conoscono il rapporto di causa effetto e di conseguenza quello che stiamo vivendo in questi giorni è proprio questo un rapporto di causa ed effetto nonostante questo in televisione continuano a sparlare ormai sinceramente non so neanche se provare pena per queste dichiarazioni qui sul canale 1 oggi minacciano l'occidente affermano che bisogna conquistare perlino che bisogna riprendersi l'alaska eccetera eccetera questo perché evidentemente non hanno gradito le risposte di biden per l'utilizzo dei missili nella regione di kursk anche qui prendono di mira trump dicono che è uno che porterà ulteriori divisioni dall'altra parte i trumpiani minacciano l'amministrazione attuale di portare un escalation e causare la terza guerra mondiale insomma sono tutte dichiarazioni politiche e poi vedremo appunto anche la risposta di zelensky a tutte queste fanfare politiche onestamente nel frattempo come sapete c'è il g20 fra l'altro erdegan ha affermato che presenterà un piano per congelare la situazione al fronte in qualche modo concedere territori conquistati alla russia il che è assolutamente una follia nel senso la russia non ha nessun diritto di rivendicare territori conquistati non funziona così però ecco vorrà presentare il suo piano ovviamente dal cremlino non hanno gradito la sua ingerenza e sicuramente non si accontenterebbero di quel poco che hanno conquistato fino ad adesso quindi fra l'altro interessante la risposta di putin in cui ha detto che non si presenterà al g20 in questo trafiletto dice anche il presidente russo vladimir putin ha scelto di non partecipare fra l'altro anche zelensky non parteciperà perché non è stato invitato così pare il party non lo ha invitato del resto poi vabbè non penso che sia importante per lui e comunque il presidente russo vladimir putin ha scelto di non partecipare affermando di non voler interrompere il forum con colloqui sul mandato di arresto internazionale emesso nei suoi confronti chissà perché c'è un arresto un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti ora prima di commentare ulteriormente le concessioni per l'utilizzo delle armi e dei missili a lungo raggio sentiamo quello che ha detto zelensky giusto poche ore fa dice sono profondamente grato a tutti i nostri part partner che ci supportano con sistemi di difesa aerea e missili questo è uno sforzo veramente globale ogni volta che la russia porta a termine tali attacchi sottolinea quanto sia fondamentale che i partner non ci lasciano da soli e continuano a fornirci sistemi patriot e altri inutilizzati nei magazzini è importante che li forniscano proprio a quelle a quelle nazioni che devono proteggere le vite dei propri cittadini e che ne hanno urgente bisogno non abbiamo ancora ricevuto tutti i sistemi necessari dai nostri alleati ma continuiamo a lavorare per raggiungere questo obiettivo una volta che questi sistemi saranno in atto la nostra capacità di respingere gli attacchi sarà molto più forte un'altra cosa il piano per rafforzare l'ucraina è il victory plan che ho presentato ai nostri partner uno dei suoi elementi chiave è fornire al nostro esercito capacità a lungo raggio si è detto molto sui media oggi si dice che abbiamo ricevuto l'approvazione per intraprendere azioni relative ma gli attacchi non si eseguono con le parole queste cose non vengono annunciate i missili parleranno da soli quindi sono parole abbastanza interessanti per quello che viene detto in quanto appunto zeleschi giustamente afferma che sono le azioni a parlare le chiacchiere stanno a zero quindi seguono poi tutti i vari post relativi alle varie dichiarazioni per le concessioni dei missili e quant'altro sul giornale le figaro è stato affermato notizia da confermare quindi ufficialmente che anche francia e inghilterra hanno autorizzato l'utilizzo di armi a lungo raggio come scalp e storm shadow stiamo parlando di missili comunque che non hanno grandissime capacità sia lo scalp che lo storm shadow in termini di gittata mentre da un punto di vista operativo sono sicuramente armi molto più importanti rispetto ai droni ucraini che colpiscono la russia perché queste armi possono trasportare munizionamento a frammentazione fondamentale per esempio per distruggere grosse aree come per esempio aeroporti dove sono parcheggiati molti aerei oppure hanno la capacità di penetrare in profondità in bunker rinforzati o colpire infrastrutture in cemento armato questo è un po uno schema del tipo di armi che gli ucraini possono utilizzare eventualmente con gli attuali armamenti a disposizione si parla degli attaci ems e vari tipi di munizionamento anche questa per esempio è una mappa che mostra tanti obiettivi papabili ma come ho detto all'inizio del video attualmente la casa bianca ha autorizzato solo l'utilizzo di armi nella regione di kursk quindi questo schema in realtà è solo illusorio nel senso non hanno ancora ricevuto le autorizzazioni per colpire questi obiettivi una cosa interessante da notare che quasi tutte le basi in bianco che vediamo sono state coinvolte nel lancio dei missili ieri in cui molti sono partiti avio trasportati da aerei partiti da tutta questa regione e altri che sono partiti da terra sono partiti da qui da qui da qui da qui insomma questi sono obiettivi molto importanti da colpire per impedire futuri attacchi da parte di mosca quindi come dicevo la notizia è stata riportata da varie fonti quella per quanto riguarda la francia e la gran bretagna però ancora non ci sono conferme ufficiali quindi ripeto la decisione di biden ha a che fare soprattutto con la corea del nord che piuttosto che con gli attacchi che la russia ha condotto in questi giorni allora per quanto riguarda invece la situazione sul campo e le autorizzazioni che a quanto pare gli ucraini hanno ricevuto per colpire la regione di kursk bisogna considerare che la regione di kursk è relativamente importante da un punto di vista strategico lo abbiamo lo vediamo in queste immagini ormai ci vive più nessuno non ha obiettivi strategici fondamentali e questa è la situazione soprattutto poi perché le forze ucraine operano in modo molto accurato infiltrandosi con una guerra una guerriglia di movimento vi passo questo video fra l'altro che è un po' un montaggio di tante operazioni speciali condotte dalle forze ucraine infiltrandosi nel territorio di kursk questa notte comunque è un report che vi do da un punto di vista proprio strategico droni ucraini hanno colpito la regione di mosca inclusa la regione di mosca fra l'altro di questo ne parlerò anche nei video di domani se ci saranno rapporti più accurati ora la situazione in germania visto che non ne ho parlato fino adesso è particolare infatti avrete sicuramente sentito della telefonata la chiacchierata fra olas olaf schulz e putin che ha avuto appunto quanto pare il cancelliere tedesco ormai agli ultimi giorni del suo mandato ha voluto chiedere a putin un ridimensionamento delle operazioni militari di non fare escalation come dicono tutti i telegiornali ormai e poi ovviamente ieri c'è stato l'attacco di 210 missili e droni che tutti conosciamo quindi a quanto pare insomma questa telefonatina non ha avuto l'effetto sperato in germania lo sopportano male a quanto pare julgennaudit giornalista che seguo da un po' coglie l'occasione proprio per parlare di questo e dice ormai il cancelliere tedesco sarà in carica ancora per pochi giorni ma potremmo ancora dare le concessioni per i missili taurus questo è il missile taurus che vediamo in azione è un missile da crociera viaggia con velocità nell'ordine di un jet ed è un oggetto stealth è in grado di seguire il terreno e di colpire con assoluta precisione questo è per esempio un bunker quindi sono oggetti pensati per avere un ruolo chiave nella nella guerra strategica oggi comunque in germania ci sono stati qualcosa come 2.500 manifestanti per strada che chiedono appunto una un'azione più immediata da parte del governo a berlino fra l'altro anche la vedova navalnay ha presenziato a questa manifestazione nel frattempo sul campo come vi ho accennato ieri continua a nevicare questo è un carro ucraino che sta viaggiando nell'area di chiasi viar vediamo appunto il paesaggio innevato tra l'altro i carri ucraini stanno mostrando questa particolare questo particolare stratagemma di tappezzarli con fogli di giornale il che è molto efficace perché no con con questa texture riescono a camuffarsi perfettamente sul terreno senza bisogno di essere verniciati è una soluzione molto economica e pratica nel senso qualora dovessero dovessero consumarsi possono sempre essere sostituiti e voglio dire un foglio di giornale costa niente per poterlo applicare ora per quanto riguarda l'attacco di ieri per concludere vi avevo accennato che gli f16 sono intervenuti e a quanto pare hanno fatto un ottimo lavoro questo sempre per risposta a qualche filo russo che ogni tanto capita nel mio canale continua a dire ma cosa vuoi che facciano gli f16 sono stati tutti abbattuti beh no gli f16 fanno quello che possono difendono il territorio nazionale e per questo scopo sono più che idonei ora proprio su questo argomento ci sono dei video interessanti questo proprio il lavoro degli f16 almeno secondo mar max 24 quello che vediamo è stato nella prima mattinata proprio l'intercetto degli f16 ai missili da crociera lanciati dalla russia c'è un adio molto forte a un certo punto si sentono le esplosioni quindi attenzione si vedono i lanci di aim 120 o aim 9 da parte degli f16 e poi i missili da crociera vengono colpiti a un certo punto si sentono il terrasse E' un video Molto interessante Allora, da quello che riesco a dedurre Si parla di almeno due F-16 Che volavano in formazione E non ha intercettato più oggetti Come devo dire Una delle cose che avvalora La tesi per cui siano F-16 Secondo la fonte Che posso dire io E' che i missili che lanciano Non fanno molto fumo E' una scia così debole Può lasciarla per esempio Un AM-9 L'AM-9 è un missile Che fa una scia molto tenue Quindi presumo Che siano stati proprio degli F-16 Che hanno lanciato dei missili termici A corto raggio contro questi droni L'entità dell'esplosione Come si vede non è poca Quindi ci dà un'idea che questi oggetti Devono essere per forza di cose Intercettati a suon di missili Quindi non con il cannoncino Come qualcuno mi chiedeva Ok Quindi ottimo lavoro Per questi F-16 E penso che questo sia Uno dei primi video In cui si vedono letteralmente In azione Tra l'altro Ne ha circolato anche un altro In cui si vede uno degli F-16 Rientrare In tarda mattinata Dopo la missione E' proprio un F-16 Questo qui Classica sagoma E fra l'altro E' oscurato Il Come vedete L'area oscurata In basso E' voluta Perché Le informazioni Sugli F-16 Sono super segrete Non ci sono video Delle loro azioni Proprio per evitare Di mostrare La zona In cui Operano Questo per dare Non dare nessuna informazione Ai russi Che guardano Questi canali E questo è quanto Per oggi Mi raccomando Lo ricordo Di nuovo Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Poi Ovviamente Fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Se avete proposte Richieste Scrivetemi E come sempre Un abbraccio Alla prossima Alla prossima